Ci troviamo a Scena Sopra Merano, siamo in compagnia di Franz Falder, che saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, Franz, dopo due anni di pandemia, finalmente si ritorna a un'estate della normalità. Quest'anno abbiamo meno restrizioni e i turisti, soprattutto quelli stranieri, sono tornati. Quali sono le tue sensazioni? Io penso che quest'anno avremo di nuovo la ripresa che ci aspettava. Abbiamo iniziato abbastanza bene e adesso vediamo come proseguirà. Questa è un'estate molto calda, le temperature soprattutto in Italia, al centro-sud, sono molto alte e i turisti cercano rinfresco in montagna. Quest'anno avete notato questa situazione, ecco, anche qui da voi? Esatto, qui uno viene per fare le passeggiate lunghe e stese su in montagna. In montagna, diciamo, abbiamo questo clima che possiamo sfuggire un po' dal caldo, dalla città, no? E quindi ci troviamo in una zona su 600 fino a 1000-15 metri dove si sta molto bene. Ecco, ma soprattutto alla sera le temperature sono intorno ai 20 gradi, pertanto si può dormire in tutta tranquillità. Quali sono le novità dell'hotel Valder quest'anno? Allora, quest'anno ci siamo specializzati un po' sul bed and breakfast. Abbiamo una cena, quindi abbiamo un po' tolto le cinque portate, però abbiamo ancora la cena, quindi offriamo come sempre anche un bel buffet di insalate e poi c'è il primo, c'è il secondo e un bel dessert. Quindi accontentiamo in questo modo anche i clienti quest'anno. Benissimo, ho visto prima di salire le scale che accedono all'hotel delle e-bike, soprattutto delle e-bike elettriche. Ecco, avete fatto un bel investimento e i clienti sono soddisfatti di queste cose? Esatto, ogni tanto qualcuno sfugge in bici e va su per le montagne, ma non solo per le montagne, anche giù al lago di Caldaro, si va in pianura e si va molto bene la bici elettrica, è il boom e quindi tutti vogliono spostarsi in questo modo qua, è molto bello e soddisfacente. Ecco, Walter, ci dai un indirizzo internet per poterti contattare, eventualmente prenotare? Sì, ecco, il nostro e-mail è info-hotelvalder.com oppure il sito www.hotelvalder.com e chi ci vuole contattare via e-mail o andare direttamente sul sito. Bene, grazie Valder. Franz, da Scena sopra Milano è tutto, buona estate. Grazie e buon proseguimento.